Il cimitero di Canolo, in provincia di Reggio Emilia, si trova alla fine di una strada stretta e asfaltata che ha i lati a viti basse, campi ed erba. La macchina di Google Maps ha fotografato l'ingresso durante dei lavori di ristrutturazione e tinteggiatura e sull'impalcatura c'è un uomo, appoggiato a una sbarra di ferro accanto a una carrucola, che guarda verso la fotocamera. Oggi che sono qui, a Canolo, quell'uomo non c'è. Il cimitero è stato ristrutturato, non c'è caldo, è settembre inoltrato e il cielo è grigio e carico di pioggia. Accecato dagli dèi, dagli dèi reso in dovino, Tiresia ha attraversato i generi e il suo mito continua a mutare nei secoli. Simbolo di fluidità e cambiamento, di esplorazione e rinascita. Sono Silvia Polizzari e questo è Tiresia. Un podcast che parla di letteratura queer, una produzione Ammons Record. Puntata 8 Pier Vittorio Tondelli Guardo l'ingresso aperto in questa domenica mattina di visite e se mi volto di 180 gradi vedo tutta la strada che ho percorso a piedi per arrivare fino a qui e in fondo il campo da calcio dell'oratorio, la chiesa con il suo campanile, le macchine che rallentano alla rotonda prima di accelerare di nuovo. In questo piccolo cimitero è sepolto Pier Vittorio Tondelli e qui, continuamente, si assiste al pellegrinaggio di fedeli che arrivano sulla sua tomba a dare un saluto, a stare in silenzio, a guardare le lettere di quel nome sulla lapide di marmo, quella fotografia così famosa, Pier con una polo nera, le braccia incrociate, un mezzo sorriso sulla faccia. Pier Vittorio Tondelli è nato poco distante da qui, a Correggio, in un palazzo alto e brutto su una strada trafficata, di fronte alla quale hanno intitolato una piazzetta a suo nome. Una piazza intitolata a un ragazzo di provincia, un uomo morto giovane, che su quello spazio si affacciava ogni giorno dalla finestra di casa sua. Nasce nel 1955, il 14 settembre, sotto il segno della Vergine, e rimane in questa sua provincia per tutta l'infanzia e l'adolescenza. Frequenta la biblioteca comunale e durante gli anni di liceo, il liceo classico Rinaldo Corso, si avvicina alle associazioni di stampo cattolico. Scrive per i bollettini parrocchiali firmandosi Vicky, il nome con cui lo chiamano gli amici. Quando è tempo di università, è il 1974, Pier si iscrive al Dams di Bologna. È una facoltà nuova, appena nata, in cui insegnano Umberto Eco e Gianni Celati. Sono anni importantissimi per la sua formazione. Pier si avvicina alla letteratura nordamericana, che avrà una grossa influenza sulla sua poetica e sulla sua vita, e si appassiona a Céline e ad Arbasino. Soprattutto inizia a scrivere qualcosa che inizialmente è solo un insieme di pagine, ma che Tondelli porta ad Aldo Tagliaferri e alla casa editrice Feltrinelli. Quel qualcosa si trasformerà nella sua prima, famosissima, controversa e iconica opera letteraria, Altri Libertini. Altri Libertini. Fulvio Panzeri ha definito Altri Libertini un inventario dei desideri di una persona di 18-19 anni con tutto ciò che può esserci in una vita di provincia. È vero, e contemporaneamente è troppo poco, e questo vale per tutto ciò che si può dire di altri Libertini. Ogni cosa in quest'opera riesce ad essere giusta, eppure è solo un frammento, una parte, un lato da cui guardare qualcosa che però deve essere scoperto da più punti di vista, potenzialmente infiniti. Viene pubblicato nel gennaio 1980 da Feltrinelli e viene presentato come un romanzo a episodi. Ci sono sei capitoli, sei racconti autonomi, eppure legati insieme, che parlano tra loro e raccontano la giovinezza, la provincia. Parlano di margini, di omosessualità e di dipendenze. Sono racconti che esprimono un disagio generazionale, un momento storico preciso in cui molti, alle prese con l'emarginazione e il senso di non appartenenza, cercano il loro posto, cercano un riscatto, toccano l'eccesso. Non è un caso che questa sua prima opera non sia un romanzo in senso classico. Il romanzo, già allora, soprattutto allora, era dato per morto. L'anno prima, nel 1979, Enrico Palandri aveva pubblicato Boccalone, un testo considerato un giro di vite, la frattura tra il vecchio e il nuovo su carta. Un testo, sebbene pubblicato da una piccola casa editrice, l'Erbavoglio, che segna una cesura, la frattura tra il vecchio e il nuovo. Il romanzo di Palandri raccontava della fine degli anni 70 a Bologna, dell'esperienza di Radio Alice, di rivolte creative, di un amore. Ma soprattutto parlava dei vent'anni dell'epoca, di questa nuova parte della società che si stava definendo e che veniva guardata con sospetto, i giovani. I racconti di Tondelli seguono questa strada, sono un tentativo letterario di andare contro le strutture del passato. Ecco qui, allora, una composizione a episodi, pezzi frammentati che insieme formano un testo unico e che ben si plasmano al Tondelli di allora. Come ha detto Roberto Carnero nello scrittore giovane, il suo libro uscito per Bompiani e dedicato a Tondelli, l'autore non intende proiettare un'immagine complessiva del mondo o una sua interpretazione globale, quanto piuttosto mordere la realtà, assaporarla, eseguire in essa degli affondi eclatanti, restituirne immagini parziali da personali angolature. La novità di un testo, come altri libertini, non è però solo nella struttura, anche la lingua ha una sua portata enorme, di novità e sperimentazione. Anche lei è nuova, scandalosa, trasgressiva. Lo stile di Tondelli attinge dalla musica, dal cinema, dai fumetti. Andrea Pazienza, i Velvet Underground, Panico a Needle Park di Jerry Schatzberg. E poi quello di altri libertini è un linguaggio che prende spunto dal parlato, è pieno di dialettismi, con una punteggiatura non canonica, a volte assente, e che rappresenta una generazione, quella degli anni settanta, e una provincia, quella emiliana, in mezzo a due città, Milano e Bologna, che accolgono i suoi figli scalpitanti, ansiosi di andare altrove. I protagonisti di questi libri sono ragazzi giovani, promiscui, confusi, libertini appunto, senza un'idea precisa di futuro. Ognuno di loro tende ad abbandonare il luogo in cui è nato per andare altrove, a cercare di capire chi è, a cercare se stesso, a trovare un posto dove mettere radici. Un luogo che li accolga come esuli, che non li giudichi, che dia loro un'occasione in un mondo in cambiamento, che li curi da un passato che vogliono azzerare e dimenticare. Un luogo in cui vi è la scoperta della letteratura nordamericana da parte di tondelli come detto a inizio puntata la ritroviamo in questa necessità di abbandono di allontanamento e in questo possiamo riconoscere l'influenza degli autori della beat generation e soprattutto di jack kerouac che lui amava moltissimo c'è una presa di distanza dal mondo di prima dagli intellettuali di prima dalla cultura di prima proprio come aveva fatto kerouac con la sua opera e tutto questo è presente attraverso le scelte strutturali stilistiche e linguistiche ma anche attraverso le tematiche che decide di affrontare se il libro di palandri boccalone era diventato un caso editoriale che aveva scandalizzato i benpensanti per l'utilizzo che i giovani facevano delle droghe leggere per l'abbandono di quegli stessi giovani dell'austerità del rigore della retorica del lavoro del pc di berlinguer qui nella prima opera di tondelli il diffondersi dell'eroina la prostituzione l'omosessualità la sensazione di totale assenza di futuro di disperazione vengono sdoganati per la prima volta in italia nel modo più violento possibile con la naturalezza della verità ecco allora la vita raccontata per come davvero in provincia e in città ecco la lingua vera l'esistenza vera senza nascondigli e senza segreti allo scoperto in questo libro però ci sono anche le preoccupazioni e i tormenti di essere omosessuali in un mondo una società che non accoglie che margina che non accetta e non riconosce così ci sono gli insulti sugli autobus e le risse i pianti la paura di morire soli il bisogno di far parte di una comunità di un gruppo che diventi famiglia famiglia nuova dopo aver abbandonato quella di sangue e il paese d'origine la spasmodica ricerca di conforto e comprensione di solidarietà e di legame il libro esce all'inizio del 1980 a gennaio e ha un immediato successo di pubblico soprattutto tra i giovani ma riceve anche molta attenzione da parte della critica 20 giorni dopo l'uscita mentre la terza ristampa è in corso il libro viene censurato dopo la segnalazione di alcuni lettori il procuratore generale dell'aquila ne ordina il sequestro per oscenità e blasfemia e solo l'anno dopo nel 1981 sia tondelli che l'editore feltrinelli saranno assolti e l'opera tornerà a circolare liberamente ma nel frattempo tondelli è nell'arena si è fatto portavoce di una generazione scrivendo un libro solo in apparenza generazionale a questi ragazzi di provincia piervittorio tondelli donò una definizione gli scarti dal titolo di un intervento pubblicato nel giugno 1985 su linus e riproposto poi in un weekend post moderno i ragazzi che pensano e cercano nella loro oscurità la propria via individuale le proprie risorse al di là del baccano degli strombazzamenti dei riflettori puntati dei capelli e dei vestitini incontro enos rota amico di tondelli fin dall'adolescenza mi fa leggere le lettere di pierre mi fa vedere le cartoline che gli scriveva mi racconta dei loro viaggi gli chiedo perché secondo lui i libri di vicky non siano generazionali e cos'è che li rende così attuali anche 40 anni dopo perché la scrittura di tondelli è emotivo e coinvolgente internazionale europea e c'è a tutti i temi fondamentali esistenziali e via che riguardano anche i giovani d'oggi per questo che altri libri non ha perso di freschezza pur essendo datato e ingiustamente considerato generazionale e che invece è molto attinente io vedo che i ragazzi giovani che mi scrivono sedicenni sono entusiasti e via perché ha interpretato i bisogni le esigenze i bisogni profondi e tondelli maio è stato superficiale ha sempre affrontato i temi con grande profondità e infatti beh non ci sono stati dei classici che sono andati nei classici a 36 anni se vai a vedere dei classici è lui è andato per questi motivi che spiega carniero in un libro bellissimo che sono appunto parlano delle difficoltà dei problemi e del dolore della sofferenza c'è tutti i temi che ci coinvolgono tutti altri libertini è in qualche modo anche un libro di denuncia ed è una denuncia fatta con una voce nuova che anticipa un nuovo modo di scrivere ma che è moderna anche nella scelta di cosa parlare e del modo in cui lo si può fare la disperazione la solitudine l'amore omosessuale sono temi non più chiusi in una camera non sono più oggetto di rimozione ora sono al centro delle storie e queste storie sono nelle mani di tutti pao pao e rimini in questo quindi nell'aprile del 1980 piervittorio tondelli inizia il servizio militare obbligatorio a orvieto per poi terminare la leva a roma è in questo periodo che realizza una serie di dieci episodi su questa esperienza pubblicati su il resto del carlino e la nazione e che formeranno il diario del soldato acci ovvero il canovaccio la prima bozza di un libro che uscirà nel 1982 per feltrinelli ovvero pao pao il titolo gioca sulla sigla pao che sta per picchetto armato ordinario e già ne indica il contenuto la descrizione di quel rito di passaggio che è la caserma il libro racconta infatti i 12 mesi in caserma l'esperienza della naia la naia è il nome con cui si designa la vita e il servizio militare nel senso più ampio e con particolare riferimento a quegli aspetti della vita militare più duri da sopportare anche fisicamente in questa naia la vita di una piccola tribù come l'ha definita lui stesso che però è filtrata attraverso la voce del protagonista un ragazzo che come quelli di altri libertini se n'è andato dal borgo senza salutare nessuno ma questa volta per dovere non per sua scelta una tribù dentro la quale si nasconde una sotto tribù come l'ha definita sempre carnero ovvero quella dei giovani gay per i quali l'esperienza della naia abbraccia anche altre situazioni e problematiche più complesse pao pao è la storia di un ragazzo la storia della sua esperienza i suoi 12 mesi che si intersecano ai 12 mesi di altri è una storia di crescita e di amicizia ma anche di solidarietà ed amore già nelle primissime pagine io narrante presenta e mette in scena le sue preferenze e cerca nel gruppo persone come lui che chiama giro di consorelle della patria e nel libro ci sono storie sentimentali usando il termine in modo ampio reali o solo desiderate non ricambiate all'interno di un contesto estremamente ricco di macismo quel contesto militare formalmente impermeabile all'omosessualità forse anche per questo il libro non ha un buon successo di critica l'omosessualità in un contesto istituzionale ed estremamente maschilista mette a disagio e infastidisce il libro però si fa notare sia perché riesce a farsi portavoce di un'esperienza comune ma anche per la sua complessità strutturale soprattutto per quanto riguarda i vari tempi del romanzo il tempo in questo libro ha più piani e più livelli la narrazione fa salti balzi in un continuo andi rivieni in continui moti ondivaghi che riescono a raccontare quell'anno come un anno sospeso quasi una bolla impenetrabile in questo senso c'è anche una critica all'esperienza della naia in sé ritratta come una porzione di vita castrata mesi in cui parlare con gli altri comunicare per davvero esperire conoscere e farsi conoscere è praticamente impossibile rimini bisogna aspettare qualche anno per rivedere in libreria per vittorio tondelli rimini il suo terzo libro esce nel 1985 e segna l'addio a feltrinelli e l'ingresso in buon piani la nuova casa editrice affianca un cambio generale nella scrittura di tondelli rimini ha un libro diverso dei precedenti e la differenza è intenzionale frutto di un desiderio di mutamento e di un cambio di passo e di cammino rimini è il romanzo che consacra tondelli come grande scrittore il libro ha un successo di pubblico molto importante centomila copie vendute in poche settimane di contro la critica è spietata lo giudica un romanzo di consumo una storia da ombrellone un'operazione commerciale a luglio il libro viene presentato in un party al grand hotel di rimini assieme all'omonimo singolo musicale di luco lombo intitolato appunto rimini la rai democristiana fa una figura barbina prima annuncia poi cancella un'apparizione di per vittorio tondelli a domenica in allora condotta da pippo baudo nonostante i lettori di tv sorrisi e canzoni un pubblico popolare l'avesse votato come libro dell'anno come ricorda fulvio panzeri il critico che tondelli ha scelto come curatore della sua opera omnia pubblicata da pompiani in due volumi rimini è un giallo in cui però non si scopre l'assassino una storia corale ambientata sulla riviera per eccellenza eppure come la critica negli anni non si è stancata di sottolineare rimini è sicuramente un crocevia nella produzione di pier vittorio tondelli prima di tutto è un romanzo molto lungo un romanzo corposo con un impianto narrativo strutturato in cui si intrecciano più storie con più protagonisti che si sfiorano e si scontrano tra loro quando si parla di rimini si parla spesso di polifonia e l'autore stesso lo aveva confermato dichiarando il mio desiderio è quello di produrre un testo che abbia un andamento interno analogo a certi ritmi musicali rimini nelle intenzioni voleva essere un'orchestrazione sinfonica in cui si trovano gli adagi i lenti i prestissimo e un gran finale è tutto un po variato sui tempi e sull'accelerazione improvvisa come in una sinfonia in cui c'è un tema che però viene di volta in volta giocato diversamente pier vittorio prende cioè le distanze o meglio supera totalmente la posizione anti romanzo che aveva caratterizzato le sue opere precedenti e scrive un romanzo che almeno per certi versi potrebbe essere definito classico e che di contro ha lati sperimentali interessanti e moderni anche in rimini in una delle storie che si trovano al suo interno tondelli racconta l'amore omosessuale uno dei protagonisti è bruno mai uno scrittore che si trova in romagna per un premio letterario un personaggio in cui molti hanno rivisto una sorta di alter ego di tondelli sulla pagina per una serie di analogie biografiche e caratteriali bruno incontra a londra un artista di nome i'll read di cui si innamora e con cui inizia una relazione sofferta e complicata francesco gnerre nel suo libro l'eroe negato un libro pubblicato prima da rogas edizioni e poi da baldini e castoldi che ripercorre e approfondisce la tematica omosessuale nella letteratura italiana dice che gli incontri di bruno mai hanno sempre qualcosa di assoluto e religioso sono incontri brucianti e raccontati pienamente senza nascondigli grazie a tutti molti concordano sul fatto che rimini sia il romanzo meno riuscito di tondelli d'accordo non d'accordo una cosa è certa da cui tondelli cambia strada direzione abbandona una certa lingua un certo modo di raccontare e ne abbraccia un altro più maturo rimini è una sorta di ponte tra la sua prima produzione letteraria più sperimentale a quella più intimista e sentimentale di camere separate il suo ultimo romanzo nel mezzo ci sono altri progetti altri libri biglietti agli amici per esempio pubblicato nel 1986 con una piccola casa editrice bolognese baskerville e successivamente ripreso da pompiani pier vittorio tondelli ne farà delle copie speciali per gli amici a cui sono destinati i biglietti del libro ma in generale è un'opera bellissima delicata e struggente che passa totalmente inosservata anche per volontà dell'autore stesso curò inoltre under 25 un progetto letterario una serie di tre antologie che saranno pubblicate da il lavoro editoriale e transeuropa tra il 1986 e il 1990 e che raccolgono testi scritti da giovani scrittori e scrittrici sotto i 25 anni tra questi andrea canobbio guido conti giuseppe culicchia e silvia ballestra e nel 1990 un weekend postmoderno curato da fulvio panzeri e edito da pompiani una raccolta di articoli e di cronache scritte negli anni da tondelli a cui seguirà soltanto postumo un altro volume sempre per pompiani intitolato l'abbandono camere separate a correggio è mezzogiorno le campane però non sono suonano piova di rotto e sono sotto i portici in un bar accanto alla trattoria tre spade dove tondelli veniva spesso a mangiare fa freddo e l'umidità sembra avere materia si potrebbe tagliare in due mi siedo in un tavolino all'esterno chiedo un macchiato campari sento l'accento emiliano dai tavoli mi prendo un senso di nostalgia ma non per qualcosa in particolare piuttosto per ogni cosa possibile il mio libro preferito di pier vittorio tondelli è camere separate come ho detto è anche il suo ultimo romanzo pubblicato nel 1989 a due anni dalla sua morte avvenuta nel 1991 a soli 36 anni per ads camere separate è il romanzo della maturità della scelta dello scrivere bene della letterarietà è un romanzo riflessivo interiore è la storia di leo un uomo che all'inizio del libro ha 32 anni ed è su un aereo verso monaco di baviera guarda dal finestrino la catena delle alpi consapevole che all'aeroporto non ci sarà thomas ad aspettarlo thomas è il suo compagno ed è morto due anni prima la storia allora fa un salto indietro fino ad allora fino al loro incontro e poi ancora prima e racconta una storia d'amore improvvisa e incendiaria le incomprensioni la malattia la morte e la solitudine l'elaborazione del lutto che leo non riesce ad affrontare e superare ci sono continui salti temporali anche in questo libro che mostrano la storia finale non in modo lineare ma tramite porzioni di tempo che infine si toccano e trovano la loro forma insieme scopriamo allora che leo e thomas si sono conosciti a una festa si piacciono si conoscono diventano amici e amanti sono felici arrivano i problemi il più evidente è un rapporto sbilanciato leo ha paura dell'intensità ha paura di una relazione troppo impegnativa in cui si sente soffocare thomas lo ama totalmente non ha paura del loro amore vuole un rapporto quotidiano e costante non si sente chiuso in gabbia al pensiero di una relazione seria leo sa che lui non sarebbe mai potuto essere tutto e per questo chiama il loro amore camere separate per questo vorrebbe che il loro amore avesse l'andamento del mare con avvicinamenti e momenti di lontananza un rapporto di contiguità di appartenenza ma non di possesso una soluzione che non sarà accettata da thomas e che porterà inevitabilmente dopo tre anni all'allontanamento e alla perdita ma camere separate non è solo una storia d'amore è una lunga riflessione sulla solitudine sul sentimento di estraneità e di non appartenenza è una riflessione sull'esistenza sui luoghi da cui veniamo su quello che cerchiamo sul tentativo di convivere con la propria solitudine di accettare la propria condizione leo cerca soprattutto di elaborare un lutto impossibile da elaborare totalmente soprattutto in una società che non ha riconosciuto il loro amore al punto che leo non ha potuto avvicinarsi a thomas morente non è della famiglia e finisce quasi per sfaldarsi per non esistere e anche quando leo deciderà di tornare a casa della sua famiglia nel paese in cui è nato correggio si sentirà estraneo solo marcando nuovamente il senso di solitudine che sente in ogni momento nei confronti degli altri e nei confronti del mondo in pagine estruggenti e perfette guido nella bassa reggiana mentre il sole cala e l'aria è gialla come nelle fotografie degli anni 70 ogni volta che guido per queste strade penso ai miei anni in emilia gli amici lasciati le gite fuori porta la musica ascoltata tra tutti gli offlaga disco pax ho chiesto a max collini cantante proprio degli offlaga grande lettore e amante di tondelli della sua storia di lettore di pierre come l'ha incontrato l'ha amato da subito o è stato un innamoramento lento ho letto pier vittorio tondelli molto presto appena dopo l'uscita di altri libertini era un ragazzino di prima superiore che frequentava il tecnico per geometri di reggio emilia e il mio insegnante di lettere marcello bagnacani mi consigliò quel libro di un giovane autore di correggio uno delle nostre parti di cui si faceva un gran parlare motivato con piacere il docente andai a comprarlo non avendo la minima idea di cosa mi aspettasse restai un poco traumatizzato sia dal contenuto sia dal fatto che proprio un insegnante mi indicasse un testo del genere venivo dai quartieri popolari e tenevo i professori in gran conto e la cosa non mi tornava gli aspetti letterari il linguaggio crudo il paesaggio umano erano troppo sofisticati per la mia sensibilità di allora che invece si soffermò principalmente sulle questioni materiali sulle parole forti e sulle crude descrizioni sessuali che mi parvero assai illecite rispetto alle mie normali fantasie limitate all'ispirazione di qualche pornazzo di contrabbando non lo capì tondelli proprio per niente anche il secondo tentativo pao pao fu disastroso tutta quella omosessualità sbandierata ai 420 cozzava con la mia ancora ahimè non praticata ortodossia etero stabilì che non era per me anche se parlava di cose che conoscevo bene anche se era di qui anche se avrebbe invece meritato molta più attenzione solo con la raccolta di saggi articoli altro materiale denominata un weekend postmoderno mi pacificai trovando in quel lungo volume di tondelli un cronista e testimone di un'epoca per me formativa importantissima ed infatti ancora adesso il libro che mi piace di più di lui qualche anno fa mi hanno chiesto di leggere qualcosa di suo a firenze in una serata che lo tributava in quanto conterraneo gli organizzatori mi ritenevano a lui debitore per i miei racconti più dolenti legati agli anni 80 forse anche vero ma certamente si tratta di una cosa non voluta quando ho iniziato a scrivere all'inizio degli anni zero non aprivo tondelli da secoli comprai di nuovo altri libertini che nel frattempo avevo perso in qualche trasloco o prestato a chissà chi perché volevo riaffrontare la famosa pera del racconto opposto ristoro probabilmente la parte che ne decretò il sequestro provvisorio alla sua comparsa in libreria con mia somma sorpresa ho avuto la conferma che appunto non ci avevo mai capito molto di quelle letture adolescenti colei che nei miei ricordi era la giusi la tizia che infilava l'ago con la dose di eroina direttamente nel membro di bibo nelle latrine del posto ristoro si rivelava essere un uomo nel racconto era sempre declinato al maschile ma nella mia testa di giovane maschio sedicent etero non poteva essere visto come tale nella mia memoria era sempre rimasto una donna nonostante l'evidenza della narrazione da qualche tempo un progetto di letture dal vivo di autori contemporanei che mi piacciono soprattutto emiliani in quelle occasioni yucca reverberi dei giardini di mirò sonorizza queste letture tra cui è sempre compresa quella di posto ristoro che per me resta una delle cose più dure mai scritte sulla dipendenza e forse tra le cose più dure mai scritte su qualunque altro argomento quando leggo in pubblico quel brano mi tocca dire eppure amplificate al microfono più bestemmie di quante ne abbia mai dette in tutta la mia vita precedente ora la radio sta passando lucio battisti piova ancora ma in fondo si apre un pezzo di cielo proprio dove il sole sta tramontando e mentre attraverso i paesi della via emilia le distese di campi le trattorie a bordo strada penso all'amore a ogni amore possibile a quanti modi esistono di amare a come possono trovarsi tra loro oppure respingersi penso a quando le cose non ci sono bastate a quando ci chiediamo il perché penso a pierre che prende la corriere in queste terre a pierre che scappa a bologna che vive a milano che ama che torna che ribalta la tavola e poi ne apparecchia una nuova che trova la sua strada e che infine riposa avete ascoltato tiresia un podcast di silvia pelizzari una produzione emons record sound design stefano cattaneo supervisione editoriale caterina bocchetti paolo girella e maria saracino ringraziamo roberto carnero francesco nierre enos rota max collini e le case editrici feltrinelli bonpiani e giunti editore ciao ciao Grazie a tutti.